Ottmix Ottmix è la macchina innovativa in grado di svolgere molteplici funzioni per soddisfare ogni esigenza professionale. Ottmix lavora come mixer per emulsionare liquidi, come cutter per la lavorazione di qualsiasi ingrediente solido, come sistema di cottura professionale per svariate preparazioni. Ottmix è dotata di motore professionale da 1500 W di potenza, è in grado di triturare, omogeneizzare, emulsionare, amalgamare o miscelare in poco tempo qualsiasi tipo di prodotto, raggiungendo una velocità lame pari a 12.500 giri. Peculiarità questa che differenzia Ottmix dai tradizionali cutter, ponendola ad un livello sicuramente superiore, in quanto consente lavorazioni veloci senza alterare le caratteristiche intrinseche e le qualità dei prodotti utilizzati e realizzati, raggiungendo una raffinazione del prodotto lavorato idonea a soddisfare ogni specifica esigenza. L'innovativo sistema di cottura rende Ottmix unica e insostituibile, permettendo lavorazioni a caldo quali creme, salse, marmellate e altro, escludendo la costante presenza dell'operatore. Infatti, tutti gli ingredienti si inseriscono a freddo all'interno del bicchiere, si seleziona la ricetta e Ottmix inizia la lavorazione garantendo il preciso e costante controllo della temperatura variabile dai 30 ai 115 centigradi, la corretta miscelazione con l'opportuna velocità costante o variabile in base alle diverse fasi lavoro. Il risultato di tutto ciò sono preparazioni perfette, con grande risparmio di tempo, in quanto l'intervento e la presenza dell'operatore sono richiesti solo in fase iniziale di impostazione e fase finale di verifica e uso prodotto. Dunque, le preparazioni base, indispensabili in ogni cucina, saranno realizzate da Ottmix in totale autonomia, con risultati sempre sicuri e decisamente superiori per qualità. Ma non solo, Ottmix offre una serie di lavorazioni già memorizzate alle quali aggiungere nuove ricette, per snellire tempi lavoro, assicurando sempre ottimi risultati. Tutte le lavorazioni, ricette e fasi lavoro sono sempre visibili dal display LCD. Il pannello comandi è intuitivo e molto facile da usare, anche per lavorazioni impostate manualmente. Vediamo nel dettaglio. Tasto Programmi, per visualizzare e selezionare le ricette già memorizzate, con liste ingredienti e grammature. Tasto Più, per aumentare velocità, tempo e temperatura. Tasto Meno, per diminuire velocità, tempo e temperatura. Tasto Pulse Turbo, con Pulse si agisce con funzionamento ad intermittenza per le velocità da 1 a 10. Tenendo premuto Turbo, si porta la velocità impostata, minimo 6, alla velocità massima sino al suo rilascio. Tasto Tempo, per impostare il tempo lavoro sino ad un massimo di 4 ore. Tasto Temperatura, per selezionare la temperatura da un minimo di 30 ad un massimo di 115 centigradi. Tasto Start Stop, per avviare e arrestare funzioni e lavoro. Hot Mix è fornita con 50 programmi e ricette predefiniti, ai quali è possibile aggiungerne altri sino ad un totale di 300. La porta USB consente di inserire ricette direttamente dalla memoria del PC. Il coperchio è dotato di comodo bicchierino dosatore da 25 a 50 cc. La chiusura del coperchio è ermetica. E per agevolare l'operatore nel suo lavoro, è possibile l'apertura parziale dello stesso da ambo i lati. Il bicchiere è in acciaio inox, graduato al suo interno. Ha capacità di lavorazione pari a 2 litri prodotto. Inoltre, è dotato di manico ergonomico, da posizionare a destra o sinistra, in base alle esigenze. Il gruppo lame è progettato e costruito per un facile smontaggio ed una conseguente facile e sicura pulizia. Hot Mix è la macchina in grado di fornire un concreto aiuto in ogni cucina professionale, distinguendosi con caratteristiche quali l'affidabilità del motore e la struttura realizzata completamente in acciaio inox AESI 304. Rendono la macchina idonea per un uso quotidiano, frequente e continuativo, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza utile ai professionisti del settore. Costruita nel rispetto della normativa professionale, assicura l'opportuno isolamento in fase di cottura delle parti esposte all'eventuale contatto dell'operatore. Inoltre è dotata di sensore magnetico controllato da microprocessori sull'apertura del coperchio. I comandi sono a bassa tensione, a grado di protezione IPX1 contro polveri e umidità. L'innovativo controllo del motore tramite microprocessore regola automaticamente la potenza in funzione della temperatura del motore. Il sistema di ammortizzazione per le vibrazioni tramite piedini molleggiati rende Hot Mix stabile anche ad alte velocità. Hot Mix è in grado di assolvere in totale autonomia a tutte le preparazioni base indispensabili e oltre a questo permette di arricchire le proposte rivolte agli utenti finali senza bisogno di ulteriore impiego di tempo e personale. Hot Mix rappresenta l'innovazione per il quotidiano lavoro dei professionisti del settore. Hot Mix 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.